Ho parlato con il Presidente Draghi, non risulta nessuna estensione di Green Pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato, a differenza di quello che ho letto su qualche giornale, quindi questo mi conforta. Domanda rapidissima, ma come ha fatto a convincere Salvini del fatto che si poteva adottare il Super Green Pass già in zona bianca e se le regioni da questo punto di vista erano state più convincenti per appunto spingere sulla zona bianca? Guardi, non lo so, non ci sono stati sforzi di convinzione o cose di questo tipo, ma è proprio la prospettiva che è stata data, direi in primis proprio espressa, in primis proprio dai Presidenti delle regioni, dal Presidente Fedriga ma anche dagli altri governatori.